Ciao a tutti, a voi che seguite il mio canale. Come vedete sono ritornato, sono ritornato ieri dalla mia vacanza, breve insomma. La mia vacanza che in genere è nello stesso luogo perché ho una piccola casa in collina e vado a passare lì di solito i giorni più caldi dell'estate. Il posto è molto bello anche se non è frequentato, è un piccolo paese di 100 abitanti più o meno. La cosa bella è che si trova a mezza costa, a 500 metri in collina e c'è una splendida vista, è una splendida vista su tutta la Val Belluna, quindi si vede il piave nella sua estensione da Belluno a Feltre e si vedono tutti i paesetti aggruppati nella montagna dall'alto o anche nella valle e poi si vede uno splendido arco di montagna che è già l'arco delle Dolomiti insomma. E quindi dalla finestra si vedono come dei quadri, tanti quadri. Peccato che ci siano i fili, i fili della luce che in qualche modo interrompono questo sguardo. Ma le cime si riconoscono, no? C'è il monte Pizzocco proprio davanti, ci sono poi le pale di San Martino che si intravedono dietro e si va dai monti dell'Alpago al monte Serva alla Schiara, ai monti del Sole, si intravede l'Agnèrre, alle vette Feltrine e così via. E quindi uno splendido arco di montagne che cambia, spesso è incappucciato dei nuvole e spesso ci sono anche temporali d'estate, brevi temporali che poi passano. Quindi è bello stare in questo posto, soprattutto per il respiro che hai. Purtroppo anche lì, anche nei posti più sperduti, arrivano i trattori, tosaerba, i cani, che so io insomma, arrivano i rumori. Allora spesso bisogna approfittare delle ore tarde della notte per potersi godere un silenzio, ma anche lì l'abbaiare dei cani insomma, perché non dà fastidio. Comunque insomma lì ho passato alcuni giorni delle mie vacanze. Prima di andare ho pensato di mettere, di postare in modo tale che comparissero giorno dopo giorno, mi pare fino al 18 dei racconti, perché pensavo poi di fermarmi fino al 18. E quindi ho pensato di non lasciarvi orfani, anche se in un commento vedo che insomma avrei dovuto avvisare prima di andare in vacanza. Lo vedo come un segno di dipendenza, ma grave essere dipendenti. Ma insomma ho cercato anche di non far sentire la mia mancanza e qui pecco un po' di orgoglio. Come vedete ancora non ho visitato il barbiere da prima del covid, forse anche da prima, però insomma di solito succede così. Faccio lunghe tappe, lunghi intervalli prima di andare a trovare il mio amico barbiere che anche lui, come me, invecchia anche lui. Invecchiamo insieme. Lui però continua a fare il suo lavoro in perterrito. Speriamo che resista. Ho mantenuto questo piedaterra, insomma, questo luogo, anche perché mi permette di ritornare nei luoghi dove ho vissuto per tanti anni, dove ho lavorato. E quindi a volte mi serve anche per ritrovare vecchi amici, vecchi conoscenti, persone che magari ho frequentato tanti anni fa. È bello ritrovare persone anche magari che non si rivedono da vent'anni, da trent'anni. Guardarsi in faccia e soprattutto pensare a quanto siamo invecchiati. E poi anche sentire un po' quello che è successo in tutti questi anni. Chi c'è e chi non si è più, insomma. La vita, no? La vita è fatta anche di questo, insomma, no? Delle persone che ritroviamo e delle persone che non ritroviamo più e che magari ci mancano. Però è così. Allora ne ho approfittato anche di questo periodo, anche per andare a ritrovare il mio vecchio primario, insomma, no? Che adesso ha anche lui la sua età, perché lui è abbastanza più grande di me. Quindi, insomma, le tazzole anche lui. La prima cosa che ha fatto, che ha detto vedendomi, ma sì, qualche volta ti vedo, no? A fare questi video così, insomma, guarda il computer, no? Ma così, insomma, sei sempre lì un po' rattrappito. Ti pensavo molto a un vecchietto, insomma, lì, e invece sei ancora pimpante. Ecco, allora mi sono reso conto che do, insomma, questa idea, insomma, magari stando qui con una luce un po' così. Allora mi sono accorto che magari facendo questi video posso dare un'impressione, insomma, più vecchia, più decrepita di quello che magari in persona chi mi vede non recepisce, ecco. Prendetela come una piccola dose di narcisismo anche questa, insomma, come mi vedete spesso sono peggio di come sono in realtà, insomma, per chi volesse poi approfittare e vedermi in persona. Nel rapporto di vedersi in persona, diciamo che ho approfittato anche per incontrare una persona alla quale avevo letto un brano di un libro e che, siccome abita lì vicino a me, insomma, pochi chilometri, allora mi aveva scritto se passi da queste parti magari beviamo un caffè. Io sono passato da queste parti e quando si può bere un caffè, insomma, ne ho approfittato. E guarda caso, proprio in quel giorno, in quei giorni, lei presentava un suo libro di poesia. Ci siamo visti mezz'ora prima e mi sono lasciato convincere, perché non sono spesso molto convinto ad andare a sentire conferenze sulla poesia, no? Spesso mi annoio. Pensavo di prendere il caffè, poi lei andava a farsi la sua presentazione di questo libro e poi io sono tornato a casa. E invece, no, invece poi l'ho seguita questa presentazione che sarebbe stata poi nel pomeriggio in un bar, insomma, nella sala interna di un bar. Anche qui c'è una certa prudenza, no? Perché stare in un luogo chiuso in questo periodo con altra gente non è il massimo. Insomma, si cerca di essere prudenti perché questo, secondo me, è il periodo più delicato in cui è più facile magari prendersi qualcosa per una mancanza di, o per un venir meno di prudenza. Ma insomma, invece ho visto che lì sono tutti anche abbastanza prudenti, soprattutto le persone anziane, ma iniziano prevalentemente persone anziane, anche nel paese dove stavo. Quindi sono andato a questa presentazione di questo libro di poesia. Lo presentava una sua amica, anche lei poetessa. È stato anche questo uno di quegli incontri che un po' ti segnano, perché questo libro di poesia, io mi aspettavo una delle solite cose banali, invece è stata per me una rivelazione, insomma. E quindi vorrei condividerla con voi, insomma, questa rivelazione. Io la conoscevo perché avevo appunto letto un brano di letteratura, di prosa, insomma, di un libro che aveva scritto e che ho postato. Poi lei ha scritto anche altri due romanzi. Non la conoscevo, invece, come poetessa. È stato presentato, direi, molto bene anche dalla sua amica, dalla sua collega, anche lei che scrive poesie. Questo libro, questo libro che poi mi ha mi ha dato, perché, anzi, l'ho chiesto, perché, insomma, sentendo la presentazione, insomma, ho capito che c'era qualcosa. Da in passato avevo fatto un video dove dicevo che c'è ancora bisogno di poesia. E in quel periodo facevo riferimento, in quel momento facevo riferimento a Cappello, come poeta, insomma, che giustificava il fatto che ci fosse ancora bisogno di poesia. E poi qualcuno, invece, ha detto che, sì, insomma, non è che possiamo fare riferimento solo a una figura. Ce ne sono tante che magari non conosciamo, rimangono nell'ombra. Allora magari dobbiamo cercare anche tra le collane, e me ne ha segnalato qualcuno in un commento a quel vecchio video, qualche collana in cui è più facile trovare della poesia, insomma, non delle cose che si scrivono così, no? Da presunti poeti che poi poeti non sono. E invece qui ho scoperto una poesia, insomma, qualcosa che mi convince, e che mi convince perché, come dicevo in quel video, ci deve essere un pensiero, un pensiero forte, insomma. Non ci basta la retorica della poesia, no? Non ci bastano le metafore, non ci bastano certe figure retoriche che pur ci vogliono per scrivere poesie, perché la poesia ha un suo linguaggio. E quando ho sentito citare, perché sono poi brevi versi, sono componimenti molto, molto brevi, sono dei colpi di frusta, sono qualcosa che incide senza pietà nel tessuto della mente. E quindi quando ho sentito queste poesie, alcune, ne sono state lette poche per la verità, insomma. Si è parlato più di poesia, ma ho capito che c'era stoffa e quindi mi sono fatto dare questo libro per poterlo leggere. E l'ho letto in una sera prima di addormentarmi, perché i libri di poesia si leggono anche in maniera così, no? Si leggono di corsa all'inizio, no? Per vedere non tanto come va a finire, ma per vedere, per esempio, se c'è anche una tenuta, se quello che si pronuncia all'inizio poi continua nelle varie poesie. Spesso poi i componimenti poetici o i libri di poesia sono brevi, no? Ci sono 30-40 poesie. In questo caso invece il libro ha quasi 200 pagine e quindi ogni pagina è una poesia e quindi sono quasi 200 poesie, insomma, no? Sono tante, ma sono brevi e si leggono rapidamente una prima volta. Però il trucco della poesia è che se tu leggi un romanzo puoi anche leggerlo una volta, puoi metterlo via in biblioteca e se ti salta in mente proprio se è una cosa così che ti è piaciuta, magari lo riprendi dopo qualche anno e lo rilegzi. Ma la poesia invece è una cosa che tu leggi una prima volta, ti crea delle suggestioni e poi ci ritorni, ci rifletti, immagina, lavora dentro di te, insomma, la vai a vedere, la vai a cercare e quindi è un qualcosa che è bene avere anche materialmente un libro di poesia accanto a sé. E poi andarci a cercare magari quella cosa che più ti suggerisce quello stato d'animo nel momento, che più ti fa, che ti dà lo spunto per riflettere, per riflettere sull'esistenza, sulla condizione umana, sulla tua condizione, su quelli che sono i tuoi desideri, le tue aspettative, il tuo sentire, la tua tristezza, il tuo dolore, su cosa fare affidamento nella vita, su come sentire. E insomma, spesso la poesia ti dà dei flash che magari non sono, non sono esattamente quelli che il poeta sentiva nel momento in cui ha scritto quella poesia. La poesia è uno strumento che lui ti dà, ti mette a disposizione per vedersi e per trovarsi poi le tue suggestioni. Questo ascolto di questa presentazione, poi eravamo in quattro gatti, insomma, eravamo proprio quattro, però, insomma, però, nonostante questo ho raccolto molto di più che non in altre presentazioni molto più pompose, in locali molto più prestigiosi. Poi, insomma, un po' di abitudine a leggere poesia ce l'ho. Leggere poesia è una dimensione che non ci può mancare nella vita. È più facile, ma più difficile nello stesso tempo. È difficile che ci mettiamo a comprare un libro di poesia e ci mettiamo a leggere un libro di poesia. Ed è forse anche questo motivo per cui chi scrive poesia si trova tra altri che scrivono poesia e spesso lo scambio avviene tra loro. È che è molto difficile vendere un libro di poesia, insomma, che qualcuno compri un libro di poesia se non dei poeti noti, conosciuti, stranoti, no? Per cui è anche molto difficile che un poeta bravo, che un vero poeta, diciamo così, riesca a farsi conoscere quando viene dal nulla, quando non ha un retroterra dietro di sé, quando non ha un ambiente che lo spinge, quando non ha una carriera o qualcosa alle spalle, insomma. Un poeta che si pubblica spesso è difficile che arrivi al grande pubblico. Trova tante strade difficili, insomma, no? Deve ricorrere all'autopubblicazione, poi i suoi libri gli ricomprano gli amici quando gli va bene, ma è difficile che arrivi al grande pubblico, è difficile che si leggano poesie di sconosciuti, no? Mi sento di, come dire, di dare una mano, se posso, per quanto mi è possibile, a questa persona, che poi è una persona particolare, nel senso che ha una grande passione nella vita che sono la natura e gli animali, vive a contatto col bosco e vive a contatto, diciamo, con vede, insomma, i cervi, gli ungulati, insomma, tutta la popolazione del bosco che le passa vicino, insomma, che le sta vicino e quindi trova anche un impegno di vita in questa cosa qua, insomma, lotta contro la cazza, insomma, contro i cacciatori, insomma, contro chi dà la cazza a questi animali, diciamo, indifesi, insomma. E quindi di questo ne fa anche un impegno, un motivo di vita. La sua poesia, al petto, è molto breve, pensiamo a Ungaretti, no? Come composizioni poetiche. Pensiamo anche all'aicù, secondo me, insomma, alcune cose sono così, no? Sono fulminanti, come può essere un'aicù, una proposizione, una seconda proposizione e poi una conclusione che in qualche modo ti spiazza, ti porta in un'altrove, ti fa intravedere altro, come succede spesso nell'aicù, anche se magari non hanno la rigida forma dell'aicù con la struttura metrica 5-7-5, 7-5-7, insomma, quello che è. Poesie brevi, ma poesie anche che non sono, come dire, che usano poche metafore. Certo, la poesia, come dicevo prima, ha bisogno di figure retoriche per essere tale, insomma. Però poche metafore, poco linguaggio astruso, astratto, pochi aneliti all'infinito, a Dio, al vorrei ma non posso, insomma, a tanti luoghi che sentiamo in tante poesie, che ormai, insomma, non so, proprio perché se ne fa spesso un uso eccessivo, stancano, almeno a me. Questa invece è una cosa che viene diretta, non si scappa a queste proposizioni. Spesso c'è dolore, c'è dolore, ma non c'è disperazione. E la consolazione al dolore, diciamo, viene in questa terra. Viene qui, nel qui ed ora, insomma, nell'istante in cui viviamo, nell'istante in cui passiamo, e così via. C'è questa consolazione che viene anche dall'amore della natura, insomma, dal sentire la natura come potremmo sentire noi. Facciamo un esempio. Piccolo bambi, solo fiori, ruscelli e neve ti accoglieranno. Non temere, ali di farfalla riapireranno i tuoi occhi altrove. È dedicata a un animale, ma pensiamo anche al nostro destino di uomini. E soprattutto viene da meditare su questa parola altrove e sulle ali di farfalla. Cioè, come vorremmo in qualche modo essere, andare in un'altrove, che è il destino di tutti, trasportati nel passaggio dalla leggerezza di ali di farfalla, pur nel dolore del passaggio o di quello che precede il passaggio. Riflessione Altra poesia Mille piccoli spilli mi attraversano Ho bisogno del freddo Del dolore di mille piccoli spilli che mi attraversano Per ricordarmi che ho ancora una pelle Perché la disperazione ha un volto Che per quanto osceno io posso scalfire Ma la lenta agonia Dell'indifferenza È figlia del vuoto Eh, pensiamo all'atmosfera di questa poesia, no? Freddo Dolore Spilli Disperazione Osceno Lenta agonia Indifferenza Vuoto Tutto suggerisce disperazione, no? Però Ho bisogno Del freddo E del dolore Sono quelle cose che ti fanno sentire Vivo Per ricordarmi che ho una pelle Perché non si vive senza dolore Ma anche non si è se stessi Non si è uomini Se non si passa attraverso la sofferenza L'esperienza Della sofferenza Ma La disperazione Ha un volto Che per quanto osceno Io posso scalfire Cioè Io posso mettermi In collegamento Con quello che mi provoca dolore Lo posso guardare in faccia Quindi lo posso affrontare Quando c'è L'altro Quando c'è qualcosa Che mi Fa Male C'è un rapporto C'è un qualcosa Con cui ci si può mettere in comunicazione Per quanto Osceno Ma è l'indifferenza Quando Che ci fa sentire Più soli, no? La lenta Agonia Dell'indifferenza Quando non si trova più L'altro O la compassione Dell'altro È qui Che sta Il vuoto La solitudine Farfalle di luce Non voglio pesi Nelle mie mani Solo Farfalle Di luce A indicarmi la strada Leggerezza Leggerezza Niente peso Niente che ti Tenga Legato Alla terra Al basso La farfalle di luce Ma farfalle di luce Qualcosa che ti faccia guardare Più in alto E che ti mostri La strada Per dove Non si sa Una Strada Leggo in ordine Non faccio una scelta Perché Il pregio anche di questo libro È di avere Tutte poesie Che sono Della stessa intensità Della stessa forza Insomma Io sono Il folle Che deridete Invischiati Nella vostra Meschina Prudenza Voi siete Cemento Arido E fermo Che sbigottisce Nell'irruenza Del fango Io sono Pronta Io sono Foglie E frutti E non ho Altra Certezza Che l'acqua Pura Di fonte Io Sono Pronta È là Che tornerò Supina Ad ammirare Grovigli Di stelle Tutto È legato Alla natura Non c'è trascendenza No? Ma c'è una Potenza Della natura Io sono Foglie E frutti E come Certezza L'acqua Pura Di fonte E questo Lo accetto Questo va bene Io sono Pronto Ed è lì Nella terra In questi luoghi Questo luogo Quindi Qui Non Lassù Che tornerò Supina Però Con lo sguardo Rivolto Al cielo Ad ammirare Grovigli Di stelle Eterno Ritorno Ricami Nicciani Pauroso E grigio Il muro D'acqua Oltre il vetro Restituisce Il fumo Nero E tutta L'indecenza Buttata Buttata Per strada Con una Scrollata Di spalle Eterno Ritorno Casa Là fuori Il mondo Mastica E sputa Volto Le spalle A quel Labyrinto Che non Concede Tregua Né speranza Abbraccio I miei Alberi I miei Fratelli Silenti E sono A casa Poi Certe cose Che Che ti spiazzano Novembre Novembre In ogni Senso K Grigia Di Cemento Così in terra Così in cielo Bara Lascio a voi Che resta Tace Il fiume Arso E il picchio Il vento I grilli Gli alberi Immobili E muti Privi Di respiro Che resta L'ultima Danza Muove L'ultima Danza La foglia Che torna Alla terra Pace Così Io Forse Forse Fra terra E radici O negli Anfratti Di cortezza Cerco Un angolo Dove Conservare La tenerezza Mi fermo qui Questa raccolta Di poesie Vedete È un libro Sostanzioso Per essere Un libro Di poesia Anche Se contiene Componimenti Molto brevi A volte Di sole Due righe Ma molto Intensi Come avete Sentito Che Sono come Degli Inneschi Dei motivi Per Per andare Oltre Per riflettere Su noi Sulla nostra vita Sul mondo Sulla natura Su quello che facciamo Su quello che siamo Su come Stiamo insieme Senza Trascendenza Senza entusiasmi Senza Con molto realismo E anche con molta Sofferenza Mai Con disperazione Chi volesse Insomma Continuare Questa Esperienza Di lettura Di poesia O magari Comenzare Con un'esperienza Di lettura Di poesia Si procuri Questo libro Lo trova In rete E' un consiglio Che vi do Poi Insomma Non Non vendo Cose in cui Non credo Insomma Per me E' stata Un'esperienza Interessante Un'esperienza Forte E E quindi Ve la passo Così Come Come è stata Poi volevo Concludere Questo Questo video Dicendo Che Tra gli incontri Ho anche Cercato Di Di lavorare Stando su In In collina Nella mia casa In collina Ho provato a leggere Insomma Ho fatto un po' Di lettura Insomma La qualità audio Probabilmente Non è Granché Ripeto Purtroppo Il rumore Sarà anche lì Ma Io Non sono riuscito A A non leggere Finché stavo lì Insomma Anche perché avevo Dei momenti Passavo il tempo Anche A leggere Allora vi dico Cosa Ho letto E quindi Cosa Vi potrete Aspettare Nei prossimi Giorni Intanto Un libro Che mi era stato Consigliato Da uno di voi Di London John Barleycorn Non so Se si dice Barleycorn O Barleycorn E io ho letto Barleycorn L'ho letto Integralmente Quindi adesso Lo Correzzerò E un po' La volta Lo Lo posterò Sempre finché Ero in collina Poi ho letto Quel racconto Il tempio Che ho postato Poco fa Poi ho letto Yentl Di Singer Altro racconto Molto bello Dal quale è stato tratto Un film Con Barbara Streisand Anzi forse era La regista Addirittura Del film Barbara Streisand Poi ho letto Il fedone Di Platone Tanto per non Dimenticarsi Anche Del buon tempo Antico E della filosofia Poi ho Finito La lettura Integrale Di Padre e Figli Di Turgenev Magnifico Romanzo Capolavoro Che avevo cominciato Qui E che ho portato A termine Lì In collina E quindi anche questo Ve lo passerò Magari in puntate Perché adesso Il grosso lavoro Sarà di Correzzere Questo materiale E poi ho letto Di un autore Che cita anche Calvino Mi pare Nella Nella lezione Dedicata Dalla rapidità Alla velocità Ho letto Un libro Di De Quincy Di Thomas De Quincy Il postale Inglese Anche questo Un libro Particolare Interessante Che Troverete Prossimamente Insomma Appuntate Anche questo Perché man mano Che li correzzerò Magari man mano Li posterò Alla fine Dopo un po' Ne farò Un video Che raccoglie L'intero Libro L'intero Audio libro Ma vado meglio A postarli Un po' La volta Questo è quello Che ho fatto E che vi Ritornerà Poi Mi è stato chiesto Solaris Se lo Terminerò E lo terminerò Datemi un attimo Il tempo Adesso Di Come dire Di smaltire Questo materiale E poi Finisco Anche Solaris Lo finirò Un po' Alla volta Quando voglia Di Leggere Lo finirò E lo posterò Quindi state tranquilli Anche Solaris Andrà Terminato Addio Piacendo Poi devo chiedere Scusa Purtroppo Come dire Ho visto che Una volta Avevo messo dentro Anche la pubblicità All'interno Dei video E poi L'avevo impostato Così Ed è entrata Un sacco Di pubblicità All'interno Di tutti i video Postati da quel momento In poi E quindi Oggi stesso Ho cercato Di ripassare Tutte le cose Ma è un lavoro lungo Insomma Tutte le cose Che ho postato Negli ultimi mesi E di togliere Tutta la pubblicità All'interno Dei video Soprattutto All'interno Dei racconti Insomma E soprattutto All'interno Dei racconti Di Maupassant Dentro Non ci devono essere Stacchi pubblicitari Questo lo capisco Ma purtroppo Mi sono sfuggiti E ho capito Che Oggi Mi sono reso conto Che sono Entrati In una grandissima Quantità Di video Un bel po' Ne ho tolti oggi Insomma Sono arrivato Fino a marzo Mi pare Aprile Ma poi Un bel po' Ne devo Togliere ancora Non so Da quando è partita Questa cosa Ma purtroppo È una cosa Che non mi ero proposto Insomma Di mettere poi Tutta questa Pubblicità all'interno Magari uno stacco Sì ma Quindi il criterio È quello Che lascerò Della pubblicità All'interno Di video Molto lunghi Non so Di libri Di 4 5 ore Ve l'ho già detto Ma Il proposito Di quello E ho già cominciato A farlo È quello Di togliere Tutta la pubblicità All'interno Di racconti O di video Che durino Meno di un'ora Spero di farlo Al più presto Un lavoro noioso Da fare Quindi Però Lo farò Quindi non allarmatevi Per la pubblicità Insomma Se avete lasciato indietro Perché ossessionati Dagli interventi O dagli stacchi pubblicitari All'interno Dei racconti All'interno Dei video Insomma Adesso Almeno Mopassam Potete riprendere Racconti vecchi E non dovrebbero avere Più pubblicità Se ne trovate All'interno Me lo segnalate Io La tolgo Subito A volte Mi accorgo Che Si fanno Degli errori logici Almeno Credo Oggi Leggevo un commento Non qui nel mio canale Ma Di un mio video Che è postato In un altro luogo Uno mi scriveva Non riesco a seguire Leggi malissimo Questo secondo me È un errore Logico Come dire Se l'insegnante A scuola Dà un problema A una classe Di 100 allievi E 95 O 96 Gli allievi Riescono a risolvere Il problema E tu non riesci A risolvere Quel problema Che 96 persone Hanno risolto Il problema Non è Dell'insegnante Che ha dato Un esercizio Un problema Brutto Schifoso Fatto malissimo Il problema Probabilmente Ti devi porre Questa cosa Che il problema Probabilmente È tuo Che sei un po' Cretino Se non riesci Tu a risolvere Il problema Che La grandissima parte Dei tuoi Coetane Insomma Dei tuoi Degli altri allievi Ha già risolto Se Se a te Non piace Michelangeli Tanto per citare Il solito Insomma Come suona Michelangeli Non puoi dire A Michelangeli Che non sa suonare Perché a te Non piace Potrai dire Che a te Non piace Michelangeli Ma se dici Che Michelangeli Non sa suonare Sei un cretino Perché Non sei capace Tu Di ascoltare Michelangeli Non hai gli strumenti Per ascoltarlo Non sei attrezzato Abbastanza Quindi poniti Il problema Che puoi essere Tu Il cretino E non Proiettare Sull'altro L'incompetenza O l'incapacità E dire Fai le cose Malissimo Quei C'è un errore Logico Se certe cose Non riusciamo a capirle Quando la gran parte Degli altri Le hanno capite Io credo Che il primo passo Che dobbiamo fare Dentro di noi È quello di dirsi Come possiamo Forse dipende da noi Non dipende Solo dall'altro Poi se Ovviamente Nessuno capisce Allora è chiaro Che dipende Da chi ci propone Quel messaggio O chi ci dà Quello stimolo Ma se la gran parte Degli altri Lo capiscono È probabile Che dipenda da te Che non sei abbastanza Attrezzato O che sei un po' Stupidotto Un po' Cretinetti Non lo so Insomma Quindi Smettetela di fare Commenti di questo tipo Non lo dico a voi Che siete affezionati Insomma che ascoltate Il mio canale Che mi seguite Ma lo dico A certe persone Che fanno Questo errore Logico Attribuiscono Attribuiscono Ad altri Dei limiti Che sono propri Prima di tutto Analizziamo Le nostre Capacità E poi attribuiamo Agli altri Ma quando Attribuiamo Agli altri Delle cose Oppure Quando scriviamo Possiamo scrivere Non mi piace Come fai questa cosa Non sei capace Di farla La cosa è diversa È diversa Logicamente Devi dire Non sono capace Io Di capire Quello che tu Mi proponi Sono io Lo stupido Non tu Che lo fai male E che non sei capace Di farlo Mentre Sei liberissimo Di dire Non mi piace Quello che fai O come lo fai Non mi piace Perché non mi piace È una cosa soggettiva A te può piacere O non può piacere Ma per vari motivi Perché non hai gli strumenti Ma perché anche Non hai il gusto Perché non Che so io Per tanti motivi Ma devi dire Non mi piace Non sei un incapace Tu che mi proponi O che fai questa cosa Pensaci O Voglio dire Pensaci Chi scrive così Si ponga il problema E ci rifletta sopra Una buona giornata